Memori di Adriano, Margheriti Orsenar. Adriano, chi era costui? Un gigante. Adriano è stato un imperatore romano, che una parte di noi conosce solo per il ballo di Adriano, mentre l'altra parte ora sta googolando la parola ballo. Molto bene amici, qui siamo di fronte ad un'opera densa di riflessioni psicologiche, filosofiche, tra medicina 33 d.C. e ellenismo erotico, che lubrifica i concetti di umanità, felicità e libertà. Insomma, qui c'è tutto il kit necessario per rimorchiare a mani basse. Oh, Margheriti Orsenar ha setacciato tutte le fonti possibili per Tarvoce Adriano, che in quest'opera scrive a nipote adottivo Marco Aurelio, futuro imperatore, ai molti noto come amico di Russell Clone e il gladiatore, ma per i veri esperti sapi sessuali ha la sua opera, colloqui con se stesso, pregno di sentenze da rimorchio rapido di stampo stoico. Stupende da difendere nella teoria, meravigliosa da violare nella pratica, col sapio sessuale più lubrico che si attaccherà al vostro cervello con una cannuccia. Oh, ma prima di cominciare, come di consueto, due slide sull'autrice, perché ben presto ci dimenticheremo che è lei a scrivere, non Adriano, e ogni volta che ve lo ricorderete penserete, eh ma che c***o. Però per queste slide voglio ringraziare Aurora, una fan che ci segue da tanto tempo, che mi ha detto di essere esperta nel digital, essendo lei una webcam girl e devo dire che ha fatto un lavoro davvero eccellente. Oh, nel 1903 nasce in Belgio presso una famiglia aristocratica, Margherita Antoinette Jean-Marie Gislaine Klinguric de Croixancourt, non andò a scuola, ebbe un'educazione privata, si presume per evitare di far perdere gli studenti un'ora di lezione durante l'appello. Ha accorciato tutto con l'Orsenaro, che tra l'altro è un anagramma. All'età di dieci anni, invece che sfogliare i cioè, si buttò nello studio del latino, del greco, dell'italiano, non a caso le tre lingue, con cui è più facile rimorchiare. Amante del mondo classico nel 1924 andò a Roma, e oltre ad assistere alla parodia dell'impero romano trovandosi per caso spettatrice della marcia su Roma, fu folgorata dalla villa Adriana, e iniziò a prendere appunti sull'imperatore Adriano per un'eventuale biografia non autorizzata. Nel 1937 incontra a Londra Virginia Woolf, poteva forse nascere qualcosa, ma tornata a Parigi si innamora della donna e della sua vita, la statunitense Grace Frick, insegnante di lingua inglese, al cuore sapio sessuale non si comanda e si trasferisce negli Stati Uniti. Tempo un paio di anni esce all'acqua l'eredità del padre e si trova nell'ultimo scalino della società americana, un lavoro come insegnante. Ma continuò a scrivere e per trovare la giusta ispirazione di scrittura si trasferì nel Maine, se ha funzionato con Jessica Fletcher, perché no? E arriviamo al 1948. Amici, ricordate di questa data? Marguerite riceve dall'Europa alcuni vecchi bauli, quelli che quando fai un trasloco decidi che non sono così importanti, non quanto un buon fon. Ecco, in quel baule c'erano gli appunti sull'imperatore Adriano. Si butta capofitto in questo mondo ritrovato, manda a fanculo degli ieri, che tanto non ce l'avrebbero fatto allo stesso nella scuola pubblica, e nel 1951 nasce Memorie di Adriano. Grande successo del romanzo. A 48 anni, Marguerite Jorzenar si afferma come scrittrice. A 48 anni può continuare a scrivere, a viaggiare, a prendersi premi a pioggia, tra cui nel 1980 fu eletta prima donna della storia, membro dell'Académie français. E' a questo punto che mi viene sempre in mente una frase del suo Adriano. Ciascuno di noi ha più talenti di quello che non si creda, ma solo il successo li mette in luce. Veniamo a noi. Prima osservazione da sciorinare. Che genere di opera è? I critici letterari fin dalla sua uscita hanno dibattuto fortemente su come collocare Memorie di Adriano. E' un romanzo storico, è un romanzo filosofico, è un romanzo saggio. Oggi per fortuna la nostra cultura evoluta ci ha permesso una chiara e ben precisa identificazione. E' un libro, cioè tanto se te lo leggi. Ecco, io, scusate, volevo dirvelo, io tengo in mano un'edizione Mondatori del 1988, con traduzione di Lidia Storoni Mazzolani, nome non semplice da ricordare, ma che, tirato fuori al momento giusto, può essere facilmente combinabile con Vien dal mare, che fa simpatia e rende la vostra cultura decisamente meno pesante. Se la vostra preda ride, il più è fatto, potete tornare a parlare del gradiatore di Russell Crowe. Ma adesso addentriamoci. Di che cosa parla esattamente quest'opera? Margherita Orsenal fa raccontare sotto forma epistolare ad Adriano la sua vita. E' una sorta di bilancio. Quindi abbiamo un imperatore, Adriano, che in prima persona, alla fine della sua vita, si racconta a Marco Aurelio. Il primo capitolo, amici, si apre con la sua malattia. Adriano dice chiaramente di essere alla fine dei suoi giorni. Dice che si trova in quell'età in cui la vita per ogni uomo è una sconfitta accettata. A 60 anni, amici, i romani a 60 anni si preparavano alla morte e a noi toccano invece ancora 15 anni di contributi e almeno 20 da Grenny, che non sono mai da buttare, amici. E amiche, che le preferisco, anche Grenny. Un ottimo spunto è dato dal rapporto che Adriano con il suo medico, Ermogene, che continua a propinare gli erbetti orientali, buone solo per farci il bagno schiuma, diffidenza verso una medicina o verso l'omeopatia. All'epoca cambiava poco, per fortuna oggi. Vabbè, passiamo ad altri. Dunque, per Adriano il corpo, di cui si è sempre fidato, ora è diventato un mostro subdolo, che sta per divorarlo. Ed è in questi punti che vacilla il suo stoicismo, scrive conosco meglio il mio corpo che la mia anima. Il nostro corrispettivo è di conosco meglio il mio profilo Instagram di me stesso. Dunque siamo di fronte ad un genere memorialistico. E' chiaro, Margherita Jorzenar usa proprio la tecnica dell'Orazio romana, un Orazio che le viene talmente figa da definirla una vera e propria togata. Ah, che Orazio togata! Amici, questo libro lo dovete acquistare e metterlo da parte. Sono solo sei capitoli, ma così densi di riflessioni e aforismi che vi basterà semplicemente spulciare quelli più adatti alla vostra personalità. Adriano che parla di guerra, politica, ma anche di amore, morte, cultura, cucina, psicologia, arte. Insomma, è un quattro chiacchiere con Montemagno che una volta finito non vi fa sentire l'urgente bisogno di aprire una partita IVA. E dimmi che poco, e dimmi che poco. Ma cosa rende così affascinante l'imperatore Adriano? Sicuramente il forte contrasto che viene tra la sua carica, imperatore romano, è il suo sentire allenistico. Adriano, benché sia nato in Spagna, lo potremmo definire il primo imperatore greco. Scrive Adriano, il vero luogo natio è dove si è posato uno sguardo consapevole su se stessi. La mia prima patria sono stati i libri. Io ho molti amici, ad esempio, più nati sul Postal Market. E non mi sorprende che oggi ci siano così pochi sapi osessuali. Tutto dipende da dove i nostri figli si ritroveranno durante la loro consapevolezza. Ed è difficile formarsi bene dopo 10 secondi di TikTok. Almeno 20. Dunque, i libri per Adriano sono fondamentali. Sogna biblioteche per l'impero, come fossero granai per l'inverno nello spirito. E ovviamente i suoi libri sono greci. Scrive, ho amato quella lingua. Per la sua flessibilità di corpo allenato, la ricchezza del vocabolario nel quale ogni parola si afferma il contatto diretto e vario della realtà. Notate l'erotismo dell'ogus che si trasforma in corpo, che i cristiani hanno inturpato rendendolo Dio. E francamente, in antitesi con il bello Apollinio, è il rimorchio dionisiaco. Fate una prova. Se uno cita Euripide magari concludete con una nota di sesso. Se ti citano il Vangelo, secondo Matteo, beh, magari sei davanti a un serial killer e non avere le butande pulite è l'ultimo dei tuoi problemi. Ma continua. Continua Adriano, ho amato quella lingua. Quasi tutto quello che gli uomini hanno detto di meglio è stato detto in greco. Il rapporto con i suoi maestri greci è qualcosa di intimo. Il vero seduttore non è Alcibiade, ma Socrate, il primo attrattore di sapio sessuale della storia, a livello seriale, che però si era dato una regola. Niente donne e maggiorenni. Si parla ovviamente di nuove acquisizioni, perché lui una moglie ce l'aveva e occupava già entrambe le categorie. Adriano dunque ammette, l'impero l'ho governato in latino. In latino sarà inciso il mio epitaffio, ma in greco ho pensato, in greco ho vissuto, e in greco ha amato. Antineo, un tinnegere efebico, conosciuto in un villaggio vacanze in Bitigna. L'amore li travolge, ma Adriano deve stare accorto. Eh, perché seppur il suo rapporto viene accettato, seppur ha accettato il suo rapporto sagreto con il giovane, scrive Adriano, Roma è inclina all'insolutezza, ma non ha mai approvato l'amore in chi governa. P.S. Pagate le oggettine. Tuttavia, come scrive Adriano, la ragione si smarrisce di fronte al prodigio dell'amore. L'amore ci trascina in un universo insolito, ove in altri momenti è vietato avventurarci, e dove cessiamo di orientarci non appena l'ardore si spegne e il piacere si placa. Avvinto al corpo amato come un crocifisso alla sua croce, ho preso sulla vita segreti che ormai si dileguono nei ricordi, per opera di quella stessa legge che impone al covalescente guarito di dimenticare la verità misteriosa del suo male, al prigioniero una volta libero di obbligare alla tortura, e al trionfatore, la groglia, quando l'ebrezza del trionfo è svanita. Oh, se non siete in questa fase qui, mollate tutto e ricominciate da capo, inutile soffiare sulle braci insieme allo psicologo di coppia, piuttosto provateci con lo psicologo, o con la psicologa, che la preferisco. Tuttavia, l'amore tra Adriano e Antino ha alti e bassi, un po' perché Adriano non si nega a altri amanti, e il giovane è ancora troppo puro, ne soffre, un po' perché lo stesso Antino sta invecchiando, dopo due anni si notano i segni del tempo, dice il mio pastorello diventa un giovane principe, o ha 19 anni, ha 19 anni, che per noi è legale, per i romani è vecchio. Ci vuole tempo per il saggio Adriano per capire che la cosa inizia a non funzionare, finché un gesto vi fa intuire che qualcosa si è rotto. Antino si suicida. Antino si suicida. Uomini, eh? Oh, ma siamo fatti così, finché proprio non ci parlate chiaro. Vabbè, si suicida Antino. Il motivo? Un mistero. Forse il suo era un sacrificio per donare più vita ad Adriano, che era già malato. Vuoi per rendere eterna la sua giovinezza, c'è chi pensa a un incidente, chi è un omicidio, non lo sappiamo, e drammaturgicamente a noi ci serve il suicidio, se no non rimorchiamo, e va bene così. Una cosa è certa, Adriano inizia ad amarlo molto più da morto che da vivo. Ora, considerate questa cosa, che seppur accettata a Roma la pederastia di stampo greco, previo a essere attivi, perché il Mos Maiorum richiedeva perlomeno descrizione e rispetto per la moglie, oh, fai quel che vuoi, ma non farti beccare, questa era una regola, bene, in nome della descrizione Adriano fonda una città con il suo nome, Antinopoli. Dal suo nome è una costellazione, inizia a celebrarlo con giochi, a celebrarlo come divinità, fa costruire così tante statue che non è stato possibile abbatterle tutte, e poi ancora monete col suo volto, una festa pubblica al 27 novembre, il giorno della sua nascita. Se di fronte al proprio medico è difficile rimanere imperatori, figuriamoci di fronte all'amore. C'è chi pensa che Antino fosse schiavo, ma una ipotesi da scartare non si capisce bene, primo perché sarebbe stato inamissibile divinizzarlo anche per un imperatore. Secondo, Adriano cercò di combattere o quantomeno regolamentare la schiavitù. Nessun sistema filosofico riuscirà mai a sopprimere la schiavitù, dice. Al massimo ne muterà il nome. Si possono immaginare forme di schiavitù peggiori delle nostre, perché più insidiose. Sia che si riesca a trasformare gli uomini in macchine stupide e appagate, che si credono liberi mentre sono asservite, sia che si imprime in loro una passione forse nata per il lavoro, tale da escludere gli svaghi piaceri umani. A questa schiavitù dello spirito e dell'immaginazione umana preferisco ancora la nostra di vecchio stampo. Oh, se regolamentata poi da una mistress è meglio. Piccolo omaggio d'Andrea. Ciao, lo so che non mi segui. Eccoci qua. Anemula, vagula, blandula. Compagni e ospite del corpo, ora t'appresti a scendere in luoghi ardui, incolori e spogli. Ove non avrai più gli svaghi consueti, un istante ancora guardiamo insieme le rive familiari, le cose che certamente non vedremo mai più. Cerchiamo di entrare nella morte ad occhi aperti. Oh, se non rimorchiate con questo, scrivetemi in privato. Vinciamo noi.